C'è chi li preparava il giovedì, chi la domenica, chi li faceva con le patate e chi senza. Il risultato era sempre una pietanza gustosissima, simbolo di famiglia e di convivialità. Stiamo parlando degli gnocchi, un piatto tradizionale della nostra cucina regionale al quale è stata dedicata la due giorni del Sorrento Gnocchi Day, organizzata da DF Comunicazione. Un piatto della tradizione che ha saputo rinnovarsi nelle cucine dei grandi chef stellati. che hanno animato la manifestazione. Sentiamo Domenico Iavarone del Josset Restaurant di Torre del Greco, Pasquale Palamaro del ristorante Indaco di Ischia e Vincenzo Guarino, chef della Tavola Rossa in Umbria. Quando si pensa all'ognocco si pensa alla famiglia, alla casa, all'atmosfera che si respirava. La domenica mattina quando ci si riuniva si impastava in casa, poi questo profumo che ha brustolito, che dava la mozzarella, che filava in questo forno che ci rammentava la golosità di quelle domeniche che poi venivano passate riuniti in una tavola che per noi è convivialità. Non bisogna mai allontanarsi, a mio avviso, da quella che è la tradizione. Quindi l'unica differenza che c'è con quello che è riportato in termini casalingo è solo l'alleggerimento per far sì che il piatto possa essere gustato in modo più leggero e appropriato. L'ognocco per me è identità e territorialità, perché quando parliamo di gnocco inevitabilmente ci viene in mente la regione Campania e a sua volta Sorrento. L'ognocco ormai ha aperto tutte le porte in tutto il mondo, la gente lo riconosce come cibo di territorio e l'ognocco per noi ricorda il giovedì perché era il momento in cui la famiglia si riuniva e si mangiava l'ognocco tutti insieme per vivere un momento di piacere e di convivialità. Sicuramente piace perché a me è diventato mondiale l'ognocco, anche il centro Italia piace tanto, infatti ce l'ho anche io sulla carta e non lo posso togliere, quindi è diventato proprio un'icona a livello mondiale, quindi come fai a togliere l'ognocco dalla tavola?